Sono passati quasi 100 anni e di acqua sotto i ponti ce n'è stata. Pensate che siamo arrivati adesso all'epoca degli smartphone che attraverso un click riusciamo a sapere tutto, il sapere ci muoviamo attorno al mondo, ci muoviamo nelle autostrade del mare, ci muoviamo negli cieli. La Trecani quando ha iniziato è stata per due o tre anni affidata a Gentile, a cui si deve l'organizzazione del materiale, a cui si deve una sorta di enciclopedia tipo britannico e al dizionario di Larousse. Ebbene sono stati messi in fila 60.000 voci e 35.000 a volume, insomma un importante apparato illustrato che neanche gli smartphone riusciranno a offuscare.